Oggi abbiamo assistito alla consegna da parte dei carabinieri di quest'opera del Dattoli, opera proveniente dalla collezione della Pinacoteca della città metropolitana, ex provincia. In questo momento è stata posizionata in una manifestazione che raccoglie una serie di opere della Pinacoteca, Illuminiamo i Monumenti, presso San Domenico Maggiore. Prossimamente la città metropolitana sta lavorando per prima per riqualificare alcuni contenitori storici come la Regia di Portici e Santa Maria Lanova e quindi cercare di allocare questa meravigliosa Pinacoteca all'interno di questi luoghi che già di per sé sono di pregio. Parliamo di una Pinacoteca di circa 600 opere, quindi una collezione favolosa, assolutamente invidiabile e che rappresenta un periodo storico abbastanza lungo, dal 1700 al 1900. È una collezione che ripercorre gran parte della nostra storia ma in particolare il gran numero rappresenta quello della scuola di Posillipo, quindi un 800 napoletano meraviglioso di cui fa parte l'opera che oggi abbiamo preso in consegna.